Parte da Maleo la raccolta di firme a sostegno della petizione promossa da Fratelli d'Italia a livello nazionale. Io sto con Abele e lo slogan della petizione, decorato, primo firmatario. È un'iniziativa molto convinta, molto voluta e sostenuta a livello nazionale, una raccolta firme Io sto con Abele. Chiederemo ai cittadini lodigiani e quindi italiani, perché parte non solo da Lodi, da Milano, tutta Regione Lombardia, per arrivare poi al Parlamento attraverso il nostro capogruppo Giorgia Meloni, che siano i cittadini italiani a decidere e a dire al Parlamento, un Parlamento totalmente assente e menefreghista, se è giusto o no abolire la legge Bossi-Feni. Questo quando avverrà la raccolta di firme? La raccolta firme avverrà sabato a Maleo, nel comune di Maleo. È la prima volta che sbarca il gazebo di Fratelli d'Italia, molto richiesto dai cittadini di Maleo, dalle 10 a mezzogiorno e domenica saremo a Lodi, in Piazza della Vittoria, sempre dalle 10 a mezzogiorno. Quante firme contate di riuscire a prendere? Sicuramente non è un'iniziativa che si ferma questo weekend, ma proseguirà, proseguirà anche nelle prossime settimane. Noi di certo faremo quel porta a porta che la politica avrebbe dovuto fare già in passato e quindi sicuramente saremo molto attivi e mobilitati. Speriamo che anche i cittadini ci diano comunque ragione e il consenso. Grazie. Grazie. Grazie.